Il centro-destra si prende anche Ancona, Silvetti, nuovo sindaco del capoluogo. Biolaboratorio sempre più improbabile, la costruzione alla torraccia. Prende forma la casa delle tecnologie emergenti. Pesaro, eccellenza nazionale nel recupero dell'acciaio. Al Parco Scarpellini torna la fiera regionale del reuso. Ben ritrovati al nostro telegiornale. Buon inizio settimana a tutti voi che state guardando Rossini TV sul canale 80. Questo è il nostro telegiornale e oggi è lunedì 29 maggio. Apriamo questa edizione, chiaramente parlando di politica. Si è infatti concluso questo pomeriggio lo spoglio delle urne per il ballottaggio dell'elezione a nuovo sindaco di Ancona. Daniele Silvetti, espressione della coalizione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc, è diventato il primo cittadino del capoluogo d'Orico, battendo la candidata di centro-sinistra, Ida Simonella. Dopo la presidenza della regione Marche e il centro-destra, quindi, si prende Ancona, finora a guida Dem. Silvetti ha vinto con 21.279 voti, pari al 51,73% di preferenze. Su 19.854 voti di Anconetani, che hanno votato Simonella, fermandosi al 48,27%. Una vittoria per una differenza di 1.425 voti. Ed ora cambiamo argomento, ci spostiamo a Pesaro, dove pare sempre più improbabile la preannunciata costruzione del biolaboratorio sperimentale. La zona torraccia, individuata dallo scorso autunno e oggetto di numerose proteste di comitati e residenti, sembrerebbe infatti non convincere più i vertici dell'Istituto Zooprofilattico, anche alla luce dei recenti allagamenti. Allora, vediamo il servizio. Era osteggiato fin dallo scorso autunno da comitati, raduni nazionali, raccolte firme e residenti in rivolta. Ora, arrivati alle porte di giugno, traballa in maniera concreta la realizzazione del biolaboratorio sperimentale previsto in zona torraccia nell'accordo fra Comune di Pesaro e l'ampliamento dell'Istituto Zooprofilattico Togo-Rosati. Sia chiaro, non è in discussione che questo laboratorio venga realizzato, ma da settimane emergono forti i dubbi sulla sua collocazione geografica. Dubbi lievitati fra i vertici dell'Istituto Zooprofilattico, anche alla luce dei recenti eventi alluvionali che hanno di fatto allagato il sito in questione, pericolosamente vicino al fiume Foglia. I primi giorni di giugno potrebbero dunque essere quelli decisivi per prendere una decisione che potrebbe orientarsi verso aree più interne. Indiscrezioni hanno ammiccato al territorio urbinate, anche se il sindaco Gambini ha escluso l'esistenza di un discorso in essere in tal senso. Il cambio di location dovrebbe essere anche connesso ad un cambio ai vertici dell'Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche. Dopo una presidenza perugina, la leadership manageriale dovrebbe infatti passare all'ex sindaco di Piobico, Giorgio Mocchi, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. L'idea che serpeggia è che un laboratorio che tratta animali vada collocato in un'area maggiormente rurale di quella fra via Grande Torino e via Furiassi, non lontana dalle abitazioni ed aree commerciali della Torraccia. Tutto questo anche se il sito in questione è risultato rispondente ad ogni criterio di compatibilità. Se si dovesse concretamente virare su una soluzione extrapesero, il Comune perderebbe il mezzo milione di euro derivato dalla cessione del terreno all'Istituto. Da venerdì scorso risulta scomparso Matteo Fabrizioli, quarantenne residente a Gallo di Petriano, allontanatosi da casa dopo un'accesa discussione in famiglia. Dopo tante chiamate senza risposta, la famiglia ha lanciato l'allarme via social e si susseguono segnalazioni. Un avvistamento sembrerebbe essere avvenuto nella mattinata di sabato alla stazione degli autobus di Pesaro, così come una telecamera l'avrebbe ripreso alle 11.30 di ieri a Montecchio, sempre vicino ad una fermata del bus. Chiunque dovesse incontrarlo è pregato di avvisare la famiglia al numero 3490866400 oppure allertare subito i carabinieri che sono attualmente impegnati nelle ricerche. Matteo è alto 1,65 m, è in evidente sovrappeso e soffre di una leggera difficoltà di deambulazione. Allora speriamo veramente che Matteo venga ritrovato al più presto, intanto lasciamo la cronaca e ci occupiamo ora della Casa delle Tecnologie Emergenti, un progetto innovativo sul quale il Comune di Pesaro si è aggiudicato un finanziamento da 11 milioni di euro e che oggi ha avuto un importante tavolo di confronto ma anche di sviluppo. Pesaro raccoglie la sfida delle tecnologie emergenti in vista dell'anno capitale 2024 ma non solo. Oggi in municipio i tavoli di lavoro, cultura, turismo e engagement sono diventati proficuo terreno di costruzione della cosiddetta Casa delle Tecnologie Emergenti. Un progetto finanziato da 11 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico sul quale il Comune ha vinto un bando dedicato. Una mattinata in cui la macchina operativa comunale ha riunito i suoi 17 partner, le istituzioni culturali, gli enti di ricerca e le imprese in uno step votato a creare in città un innovativo laboratorio tecnologico. Siamo arrivati al secondo step dove appunto abbiamo voluto coinvolgere le imprese del territorio, le associazioni di categoria, abbiamo voluto appunto in qualche modo renderle partecipi. Inizieranno sicuramente una serie di incontri anche online, delle piattaforme che verranno create in base all'argomento che interessa l'azienda. Quindi iniziamo a concretizzare e a capire chi fa cosa per la nostra città. Sono molto contenta e soddisfatta, insomma anche vedo molta partecipazione qua in Consiglio Comunale. Andiamo avanti e speriamo di portare solo beneficio per la città di Pesaro. Una casa delle tecnologie emergenti che diventa un trampolino di innovazione nello sviluppo della gestione di Pesaro, capitale della cultura 2024. L'obiettivo della capitale della cultura era proprio al centro anche del dossier e della partecipazione al bando delle tecnologie, anzi si è proprio raccontato come attraverso le tecnologie e la tecnica poter raccontare meglio gli obiettivi di Pesaro, capitale della cultura che come sappiamo ha in ognuno dei suoi 45 filoni di intervento in maniera inscindibile, sostenibilità, patrimonio e tecnologia per l'appunto. Quindi non solo pienamente all'interno delle linee della casa delle tecnologie ma pienamente all'interno anche delle prime linee d'azione che si stanno studiando. Spazi tecnologici e tecnici dedicati all'apprendimento, dedicati alla divulgazione, spazi dedicati al racconto quotidiano delle attività della capitale 24 ma anche di quello che accadrà in giro per il mondo collegati via web è raccontabile attraverso strumenti creati grazie alla casa tecnologie. Saranno tantissime le occasioni di interazione tra il progetto casa tecnologie e la capitale 24 ma soprattutto lo saranno non in termini di eventi spot sporadici ma di infrastrutturazioni tecnologiche che rimarranno alla città e al territorio proprio per continuare a raccontare diffusione di dati, contenuti e i contenuti principali della capitale 24. Il Comune di Pesaro e Marche Multiservizi sono stati premiati ieri dal Consorzio Ricrea per i risultati raggiunti nel recupero degli imballaggi in acciaio. Vediamo i momenti salienti di questo importante riconoscimento ricordandovi che poi potrete approfondire questo evento che abbiamo ripreso con le nostre telecamere nello speciale che trasmetteremo giovedì 1 giugno alle 21.40. In questa calda e bella ultima domenica di maggio io mi trovo a Pesaro e oggi sono qui perché arriverà un supereroe, Capitan Acciaio e ovviamente come ogni supereroe anche Capitan Acciaio ha un grande superpotere e il superpotere di Capitan Acciaio è quello di sensibilizzare i grandi ma soprattutto i piccini al valore della raccolta differenziata e del riciclo dell'acciaio. Ovviamente non sono qui soltanto per Capitan Acciaio ma sono qui anche perché Ricrea, Consorzio Nazionale per il riciclo degli imballaggi in acciaio premierà proprio il Comune di Pesaro per l'impegno nella raccolta differenziata dell'acciaio e per i suoi obiettivi raggiunti. Quello che è stato raggiunto è un traguardo importante nel recupero di questo materiale che poi può essere riciclato all'infinito per cui veramente un ringraziamento all'attenzione dei cittadini si può fare di più, questo ovviamente come ogni volta non è mai un punto di arrivo ma un punto di partenza. La sensibilizzazione, le campagne evidentemente che anche l'azienda sta portando avanti si stanno dando i propri frutti, nel centro storico siamo partiti con questa nuova modalità di raccolta con le isole ecologiche informatizzate quindi anche questo evidentemente ha aiutato in questo risultato che ricordiamolo è al di sopra della media regionale per cui oggi siamo qua per celebrare questo risultato che appunto è di tutti, non è solo ovviamente le Marche Multiservizi anzi soprattutto la comunità, però dobbiamo fare di più quindi veramente avere questo approccio rispetto al rifiuto nulla è rifiuto ma tutto è risorsa come diciamo quindi quando gettiamo le cose dobbiamo capire bene come farlo. Ciao pesaresi, il mio superpotere ce l'avete anche voi è fare la raccolta differenziata tutta e degli imballaggi in acciaio imballaggi in acciaio che vanno conferiti qui a Pesaro insieme alla plastica perché poi questo grande materiale che è l'acciaio può essere riciclato al 100% all'infinito attraverso dei passaggi in aziende che si occupano di separarlo dal multimateriale leggero, cioè la plastica e avviarlo a riciclo per poi far sì che possa essere fuso in acciaieria e tornare nuovo acciaio che si può trasformare come si può vedere nel nostro stand qui in Piazzale della Libertà a Pesaro si può trasformare in nuovi oggetti come panchine, telai di biciclette fontanelle, anche binari del treno quindi ne gioviamo tutti noi oggi sensibilizziamo la cittadinanza fino al 29 maggio e andiamo a premiare la città e tutti quei fattori tutte quelle aziende che partecipano insieme ai cittadini che hanno in primis il dovere di differenziare correttamente andiamo a premiarli per i valori di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio che sono arrivati a buoni risultati ma non molliamo, facciamo sempre di più Dal recupero dei rifiuti passiamo ad un altro circolo virtuoso quello del riutilizzo degli oggetti usati va in questa direzione la fiera regionale del riuso che torna a Pesaro al Parco Scarpellini dall'1 al 4 giugno Ci troviamo al Parco Scarpellini in cui torna finalmente l'ottava edizione dopo tre anni di stop causa Covid torna finalmente la festa del riuso in cui le famiglie gratuitamente dall'1 al 4 giugno potranno venire a divertirsi qui in questo splendido parco Quattro giorni dove invitiamo tutte le famiglie a essere presenti quattro giorni dove ci fermiamo un attimino e riflettiamo su quello che è l'operato della Gulliver nella città e nella provincia di Pesaro al centro il riuso e il riciclo e quindi spiegheremo alle persone come poter essere concretamente vicini all'ambiente tanti parlano, fanno convegni ma la cosa concreta da fare è quella di mettersi a casa con gli amici a riutilizzare e ricicare i beni che buttiamo via quindi da un'idea di ripeto l'invito è essere presenti questi quattro giorni bambini, passeggini, famiglie, ragazzi perché il parco è bellissimo e ci sarà tantissima gente stende gastronomici, cavalli, giostri di tutto e di più ci fermiamo, riflettiamo e stiamo insieme parliamo di 150 bancarelle quindi di privati cittadini che vengono con la famiglia bambini e adulti che vengono ad esporre le cose che avevamo buttato via le mettono in esposizione chiunque può venire e passare le prende e lascia un'offerta agli espositori e quindi diciamo un atto concreto per far capire alle persone che non buttiamo ma ricicliamo riusiamo e stiamo attenti alle cose che abbiamo per tutti c'è un ampio parcheggio creato attorno al campo da rugby quindi chiunque viene con la macchina può parcheggiare tranquillamente a 50 metri dall'evento parcheggio sicuro la Gulliver in questi anni si è veramente distinta per il concetto del riuso nel senso che questa è una festa di riuso che dura 4 giorni quel parco scarpellini ma in realtà è una politica che va verso il riuso che è a livello cioè annuale nel senso che loro hanno questo stabile che puntano al riuso dei vestiti al riuso dei materiali al riuso di quelli che sono i mobili quindi veramente un'economia non lineare ma un'economia circolare noi ci riempiamo sempre la bocca che è importante consumare meno materie prime che sono presenti oggi nel mondo e di riutilizzare quanto più possibile quelli che sono i materiali partiamo il primo giorno con tre eventi musicali il primo gruppo ad intervenire sarà Livi e Magrini che sono un duo femminile poi avremo un ragazzo che è un batterista Francesco Tamburini poi avremo la bellissima spilata organizzata da Gulliver con i vestiti del riciclo e quindi coinvolgeremo un pochino tutte le maestranze anche di Gulliver ma anche ragazzi grandi, giovani, bambini magri, grassi in questo messaggio etico che anche la moda deve essere per tutti Ed ora una comunicazione di servizio infatti vi informiamo che domenica 4 giugno si terrà il mercato cittadino straordinario nell'area del San Decenzio per permettere agli ambulanti di recuperare la giornata del 16 maggio annullata per maltempo domani mattina invece come vi avevamo già anticipato nei nostri notiziari nel consueto mercato del martedì gli avventori delle bancarelle potranno donare indumenti utensili e generi alimentari a lunga conservazione utili alle vicine popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna sarà organizzato un punto di raccolta che verrà replicato per altri due mercati del martedì e anche la musica pesarese va in soccorso agli alluvionati romagnoli domenica 4 giugno infatti sarà il quartetto oasi ad esibirsi alle 20 e 30 nella terrazza dell'hotel Alexander Museum Palace con lo spettacolo Il soffio della nuova vita realizzato da Roberta Arduini con un'offerta libera a partire da 10 euro si potrà assistere al concerto con raccolta fondi appunto destinata alle terre romagnole il 2 giugno al rifugio chalet Principe Corsili nel cuore del Monte Nerone si terrà il primo festival di cammini d'Italia il festival prevede per l'intera giornata l'opportunità di partecipare a escursioni di varie difficoltà alla scoperta della bellezza della montagna inoltre ci saranno lezioni di yoga tiro con l'arco un laboratorio di aquiloni per bambini e workshop di fotografia di paesaggio a seguire il 4 giugno si replicherà il millenario rituale della transumanza che porterà in quota pecore, cavalli e bovini la partenza è alle ore 6.30 da Piobbico con arrivo allo chalet Corsini attorno alle ore 11 l'istituto superiore Benelli di Pesaro ha ricreato il balsamo che nel 700 rese celebre il territorio di Cantiano grazie ai suoi estratti di piante del Monte Catria un prodotto riscoperto i cui proventi di vendita saranno devoluti anche in questo caso alle popolazioni alluvionate allora vediamo una storia che nasce nel 1764 quando il Monte Catria veniva esplorato in tutta la sua bellezza e varietà di piante proprio tra 7 e 800 si parlava di un medicamento prodotto proprio a Cantiano dalla famiglia Chilli un balsamo con poteri curativi a base di piante come l'iperico in grado di curare bronchiti e asme ed ecco che dalla tradizione rinasce una nuova ricetta dell'opo balsamo che rispetta l'originale e vede i ragazzi dell'istituto Benelli collaborare nella produzione di questo nuovo prodotto il cui ricavato andrà in aiuto della popolazione alluvionata che presenta ancora profonde ferite aperte diciamo che abbiamo messo insieme scuola territorio aziende perché è la formula ottima perché così i nostri ragazzi possono imparare dal territorio e capire anche come funziona la realtà lavorativa e loro hanno svolto questo progetto grazie a Cosmes Italia Ecofatto e RSM e proprio diciamo si sono messi in gioco loro accompagnati da noi i docenti i docenti sono stati grandiosi perché si sono messi in gioco andare al di là della diciamo della mera lezione teorica e accompagnare i ragazzi nell'azienda fare la formulazione riuscire poi a pensare ideare un packaging insieme all'azienda è stato molto molto importante e bello anche si ci fa molto piacere essere qui stamattina è testimonianza anche che un evento catastrofico come quello che ci ha colpito può avere anche risvolti positivi intanto in termini proprio pratici perché poi questa cosa si è concretizzata in un prodotto che viene commercializzato il cui proventi insomma finiranno anche nelle nostre casse per aiutarci insomma rimetterci in piedi e poi è stata anche un'occasione di riscoperta di una storia che anche dagli stessi cantianesi era stata quasi dimenticata perché è una storia finita più di un secolo fa quella del balsamo di Cantiano una storia di saperi di artigianato di cura dell'altro perché non dimentichiamoci che il balsamo aveva un utilizzo medico farmacologico all'epoca insomma le conoscenze mediche erano queste e di ricchezza del territorio perché proprio alla base del farmaco c'era proprio la conoscenza delle nostre erbe dei nostri fiori delle nostre ricchezze naturali l'iperico che era poi la base il cuore di questa medicina di questo farmaco che ancora oggi è molto utilizzato come rimedio naturale la scuola è questo cioè non è un qualcosa che è fuori dal mondo entra nel mondo noi già eravamo stati per esempio a Senigallia ad aiutare con i nostri ragazzi a spalare il fango in settembre per problemi logistici facevamo fatica ad arrivare a Cantiano però questa iniziativa qui ci ha aiutato perché dice bene a Senigallia abbiamo fatto una cosa qui ne facciamo un altro quindi anche la poliedricità anche della scuola e dei ragazzi Chiudiamo questo nostro telegiornale del lunedì seguendo ancora i campionati che sono attivi nel nostro territorio si è concluso quello dell'Ital Service Calcio A5 raggiungendo la vittoria la Vitre Frigo Arena sabato scorso nei play out si è garantita chiaramente la permanenza nella Serie A e allora andiamo a vedere questo servizio è arrivato il lieto fine sulla travagliata stagione dell'Ital Service ancora una volta Pesaro è stata chiamata a confrontarsi con una finale ma dopo i ripetuti fasti da scudetto l'ultimo atto del 2023 è stato con uno spareggio play out altri obiettivi ma stesso risultato quello della vittoria per Pesaro che celebra la permanenza in Serie A e lo fa in una cornice tanto inusuale quanto affascinante quella della Vitre Frigo Arena prestata per l'occasione vista l'indisponibilità del Palafiera è finita con un migliaio di tifosi nell'astronave da applaudire un perentorio 4-1 rifilato ai rivali sardi del Monastir già battuti una settimana prima 4-3 in terra isolana Pires Dalcin Tony Dandelle e Canal mettono le quattro firme che sigillano la salvezza centrata all'ultima curva da Davide Barnesi promosso a capo allenatore proprio negli spareggi dopo lo spiazzante esonero di Fulvio Colini il mio esordio può passare tranquillamente in secondo piano perché l'obiettivo era assolutamente mantenere la categoria e ce l'abbiamo fatta adesso si festeggia e bisogna festeggiare anche per una salvezza per alcuni può essere riduttivo ma dopo una stagione così bisogna festeggiare un anno complicato molto complesso chiaramente c'è stata questa riforma che diciamo che a noi un pochino ci ha sfavorito e svantaggiato però ci sta un nuovo regolamento abbiamo faticato ad adeguarci a queste nuove regole però chiaramente adesso le abbiamo comprese le abbiamo capite dobbiamo far tesoro di questo anno un po' così diciamo ibrido e dobbiamo ripartire da qui per riprogrammare il prossimo anno e non soffrire più come abbiamo fatto quest'anno ed è un Lorenzo Pizza quanto mai soddisfatto dall'ultima cartolina arrivata dalla Vitri Frigo Arena per un presidente per una società che investe tanto in uno sport vedere tante persone tanta gente penso che sia la più grossa soddisfazione io l'ho sempre detto cioè una società un presidente una persona investe per vedere un ritorno un ritorno di gente appassionata che viene a vedere lo sport e la tua squadra oggi c'è stata una risposta meravigliosa colgo l'occasione per ringraziare il comune che ci ha aiutato e ci ha messo a disposizione la struttura insieme ad Aspes quindi un grosso ringraziamento un ringraziamento alla divisione calciacinque che ci ha aiutato portando il parquet montandolo qui in questa bellissima location e un grazie ai tifosi che sono venuti così numerosi io spero di vederli sempre numerosi per tutto il campionato per il prossimo campionato con tutti i risultati che l'Ital Service ha portato alla città di Pesaro in questi anni ci sembrava giusto che finisse così questo campionato quindi ringrazio il presidente Lorenzo Pitta per tutto quello che ha investito gli sponsor la squadra è un risultato che sicuramente è motivo d'orgoglio per la città di Pesaro Pitta ha già preannunciato da tempo il suo disimpegno da presidente a partire dalla stagione 2023-2024 mantenendo però grande attenzione e coinvolgimento a quelle che saranno le prossime sorti e i prossimi progetti del calcio 5 pesarese sarebbe bellissimo giocare qui questo sarebbe un sogno vediamo stiamo parlando stiamo trattando comunque come abbiamo detto l'idea di giocare qui sarebbe meravigliosa e per il prossimo anno sicuramente l'idea è quella di fare una squadra più competitiva ripartendo da un regolamento diverso quindi ormai l'abbiamo assorbito l'abbiamo compreso dobbiamo puntare molto sugli italiani e come ho detto molto sugli italiani della nostra zona italiani forti perché comunque abbiamo un settore giovanile molto florido dobbiamo incominciare ad aprirlo dobbiamo tra virgolette far esplodere i nostri ragazzi perché meritano di iniziare a giocare in prima squadra missione compiuta anche per i ranocchi angels la squadra pesarese di football americano chiude il suo girone al primo posto dopo che ieri nell'ultima giornata di regular season ha battuto i romani del legio tredicesimo che all'andata avevano avuto la meglio 21 a 14 questa volta invece non c'è stata quasi partita e il risultato finale 34 a 15 ha garantito agli angels il primato nel girone e il miglior piazzamento in vista dei playoff e allora davvero complimenti a queste due squadre pesaresi per i risultati che hanno ottenuto invece questa sera su Rossini TV come sempre il nostro appuntamento con cecapo obiettivo salute alle 21 e 20 trovate il dottor Marino Brunori che parlerà di poliglobulia subito dopo siamo in dirittura d'arrivo anche per Spazio Z questo programma condotto dalla nostra Letizia la vedete qui adolescente che è andata a scoprire i giovani della sua età nelle società sportive del territorio ecco questa sera andrà a Villa San Martino Calcio in questa seconda parte di interviste che ha realizzato domani torna la nostra rassegna stampa in diretta alle 7 e 20 come sempre potete guardarci sul sito internet in diretta sul canale 80 in diretta sulla pagina facebook e anche sulla nostra applicazione e poi vi ricordiamo attenzione che dal primo giugno ci sono nuovi orari Rossini News appunto lo trovate alle 19 e 30 quindi non più alle 19 e 40 e poi la replica alle 20 e 30 alle 23 e 30 a mezzanotte e mezza e poi il giorno dopo alle 6 e 30 quindi prima della rassegna stampa e all'ora di pranzo alle 13 e 30 e allora grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su Rossini TV grazie per aver guardato